E valla snova a tutti, Samiri e Samira, benvenuti in questo nuovo video. Come avevo permesso, oggi avrei iniziato un nuovo vlog. Sì ragazzi, mi sono appena svegliata, scusatemi, ma veramente mi sono appena svegliata. Cioè, in realtà da mo' però va bene. Ok? Ora direi di iniziare a prepararci, perché... Sì, non voglio fare tardi come al solito. Ah, comunque, come state, scusate se in questi giorni, in questi mesi non mi sono fatta sentire. Per il semplice motivo io non riuscivo a concentrarmi sul fatto che dovevo fare una cosa a scuola, poi un'altra, poi un'altra ancora, poi questo, poi questo ancora. Cioè, c'erano un sacco di cose da fare e non ne potevo più. E c'era stato un momento dove avevo detto, vabbè, intanto se facciamo questo, facciamo anche quell'altro, facciamo danni, facciamo questo. Ci sono stati dei momenti in cui non riuscivo proprio a concentrarmi. Vabbè, ragazzi, vado a prepararmi e mo' continuo a parlarvene dopo. Continuavo a parlare dei miei momenti. Stavo dicendo, comunque, che ho avuto dei momenti dove volevo mollare tutto, perché più che altro ero stra, 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 stra stressata. Non capivo più niente. Comunque, this is the outfit for today. No, che basta. Scarpe di ginnastica, tutta da ginnastica, perché è probabile che faremo ginnastica attualmente fuori. Non si sa, però c'è una probabilità che faremo ginnastica anche oggi. E quindi sono molto, molto, molto felice di questo. E niente, per quanto riguarda i momenti, mi sono passati questi momenti. Sono le... Alexa? Che ore sono? Sono le 6.20 del mattino. Eh sì, sono le 6.20 del mattino. E niente, adesso, perché altro mi preparo, mi metto il profumo, perché ovviamente non posso mica stare così con la... con la... Cioè, senza profumo in realtà, perché non me la sento. Cioè, puzzerei troppo se non mi profumassi. Questo è un profumo roll di Zara, regalatami da Anna, una vidella della scuola con cui ho legato a distanza degli anni. Ho legato con lei e sono molto felice di ciò. Niente. Ora mi sa che vi lascio, ma ci vediamo direttamente dopo. Eccomi ragazzi, ma vi dico che nel frattempo sto avendo un altro episodio. No, speriamo di no. Perché vi dovete sapere che ieri ho avuto la mia... Cioè, praticamente io ho avuto un po' di tachicardia e pensavo tipo, oddio, adesso muoio. Invece no, per fortuna mi sono svegliata stamattina e c'è veramente, vi sto preoccupando. Ragazzi, sono molto, molto, molto spaventata. Ma niente di che. Adesso mi sono improfumata tutta quanta e non potete capire l'odore. Io lo adoro, io adoro questo odore. Adoro, adoro. Questo tra l'altro è una borsetta bellissima che ho scelto di indossare perché, sapete, è l'ultimo giorno di scuola. Vabbè, mi sembra normale. Ora vado a fare colazione e ci vediamo direttamente dopo. Sto per scendere, ragazzi. Sto per andare a scuola e sono molto felice. Allora. Madonna, c'è io ora, sono più tranquilla e tipo per due settimane ho detto, no, basta. Ah, e niente. Il computer? Da qui. Grazie. Papà saluta? Chi? Nel video. Ciao! E niente, adesso scendiamo insieme e niente. Oggi finisco con diritto e mentre vi dico questo sono già in tensione e anche perché sono... Dicami a calca che sono... Eh? Scusate. Ah, mi sono diment... Vabbè. Tanto l'avrei venuto a scuola. Comunque stavo dicendo che nel mentre dico che finisco con diritto io sono in tensione ma ma non lo so in una maniera assurda. Allora, ci vediamo dopo. Sono arrivata da mo' a scuola e sono molto felice di questo. Comunque... Sì, Anna. Niente. Adesso sto aspettando di andare giù dalla mia prof di sostegno. e niente. Dai, ci si vede dopo. Sono solo le nove ragazzi e spero che noi non facciamo nulla perché oggi è anche l'ultimo giorno di scuola e quindi niente. Eh, io non lo so. Perché la sei la struttura. No, non è vero. Io le parole non le so. Vabbè. Vabbè, dice, io adoro quella... Cioè, adoro quando vai... No, no. Allora. Sì? No. No, vabbè. No, tu mi devi insegnare gli accordi. Vabbè. Sì, però non è che devi girare la mano. Aspè, qual è? No, ma dai, ma era così bello. Cosa è successo? Non, non, non. Non mi sono ricordato. Non è vero. Non è vero. Non è vero. No, non, non, non. Non è vero. I'm going under in the summer fields Eh, ciao, non la so Vabbè Ma non è quel Tara, tara, tara Ma non è quel Vai giù, ce la vuoi fare? bravo venita si è complicata questa ma cosa cosa ci provo ci provo oddio eh ma io ci provo eh non è che io cosa bene eh le parole no però la melodia ok no 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 Sì Grazie a tutti 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 Oddio Grazie a tutti 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 Non lo so Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Some people Grazie a tutti 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 Scusa Grazie a tutti 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 Ciao Ciao a tutti